Anche il marchio Citroën è uniformato agli altri del gruppo francese PSA e la migrazione verso un futuro elettrico è già avviata. Citroën al Salone di Parigi 2018 espone l'anteprima mondiale C5 Aircross, il SUV Citroën fabbricato in Francia dal design unico, originale, moderno, tecnologico, il più confortevole e modulabile del segmento. È un SUV 100% Citroën per la personalità, audace, forte, per lo stile che esprime energia, dinamismo, uno stile imponente, monolitico ma mai aggressivo, con una vasta offerta di personalizzazione sia per gli esterni che per gli interni. Offre un comfort eccezionale, grazie alle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi e ai sedili Advanced Comfort. Moderno e tecnologico, grazie alla nuova piattaforma EMP2, offre 20 funzioni di assistenza alla guida, tra cui l'Highway Driver Assist, un passo avanti verso la guida autonoma, il Grip Control con l'Assist Descent. E 6 funzioni di connettività, oltre a motorizzazioni potenti, sia diesel che benzina, entrambe da 130 e 180 CV, anche con cambio automatico a 8 rapporti. E sarà proprio C5 Aircross il primo modello ibrido ricaricabile di Citroën disponibile a partire da 2020. Una versione che associa un motore termico da 180 CV a un motore elettrico da 80 KW per 225 CV di potenza complessiva, con cambio automatico a 8 rapporti, evoluto per la versione ibrida. Un'autonomia di 50 km in modalità 100% elettrica, consumi pari a 2 litri per 100 km, emissioni ridotte a meno di 50 g di CO2 per km.